Pronti per la partenza! Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ho lasciato anche la macchina, ho venuto a molleggiare una bicicletta per tornare a casa. Ah che disastro, volevano anche la mascherina, mi hanno detto no mi fermo il cuore. Che disastro, quanto ho perso, non tornerò mai più. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.